La Regione Puglia ha sospeso fino al 30 giugno del prossimo anno i mutui concessi alle imprese e ai liberi professionisti attraverso le misure loro dedicate. Ascoltiamo il servizio. Per evitare che le imprese falliscano a causa del rincaro dei prezzi dell'energia e sostenere imprenditori e liberi professionisti, la Regione Puglia ha deciso di sospendere fino al 30 giugno dell'anno prossimo i mutui concessi attraverso i bandi nidi, tecnonidi, microcredito e fondo a favore delle reti per l'internazionalizzazione. Il provvedimento è stato approvato dall'Aggiunta regionale per supportare e limitare l'impatto sulle micro, piccole e medie imprese pugliesi derivanti dal persistere delle perturbazioni del mercato, conseguenti la crisi post-pandemica nonché rincari delle materie prime, l'impennata dei costi energetici e il calo del fatturato derivanti dal conflitto russo-ucraino, si legge in una nota. Sostenere le imprese ed evitare il collasso del sistema economico e sociale, sostiene l'assessore regionale e lo sviluppo economico della Puglia Alessandro Delinoci, è una priorità della Regione che intende mettere in campo ogni azione possibile. Il tessuto economico pugliese è composto prevalentemente da aziende con un numero di lavoratori che varia da 1 a 9. Si tratta di imprese molto piccole che hanno resistito al colpo durissimo inferto dalla pandemia e che oggi si ritrovano ad affrontare una crisi energetica internazionale. Bloccare fino a fine giugno 2023 il pagamento delle rate e delle misure di agevolazione concesse a oltre 16.000 imprese pugliesi, aggiunge il vicepresidente e assessore al bilancio della Puglia, Raffaele Piemontese, serve a mantenere posti di lavoro e a preservare il nostro tessuto imprenditoriale capillare.